ok ecco la nuova modifica la nuova modifica aspetta aspetta prendiamo la luce qua che è meglio questa qui facciamo vedere meglio perché sennò non si vede niente dicevo ma dopo si accende con la allora facciamo vedere gli amici questa è la serpentina il rame che tocca quella piatta abbiamo parlato di piatto ok scalda il collettore scalda il gasolio gasolio passato adesso i filtri va la pompa luci giusto può fare di vedere e poi conoscono già filtri di non ritorni uno c'era sotto torni indietro questa è la mandata che va alla serpentina macchina parte giusto e basta questa è la novità vediamo che cosa succede strada facendo ok